Sì, sì, sì. La storia d'oggi ce l'ha seguita l'acqua, perché io ho l'unico inizio e solo un secondo non c'è, se parla di entrare nella luna. A questo le notizie ne abbiamo raggiunto di questo gioco, di questo gioco, di questo gioco, di questo gioco. Sì, ma il gioco non ci vuole nulla, nessuna. Sì, ma il gioco non c'è da niente. Io mi immagino che non c'è un gioco. E secondo il gioco non c'è un gioco. Hai ragione, perché in questa maniera dici faccio il pezzo. Patti andiamo a tutti, ma l'apure. Grazie a tutti.